Un saluto a tutti dal vostro Jaguarone ed oggi un altro unboxing molto simile al precedente portatile che ho recensito tempo fa il modello è Lacer Aspire 3 A315-23-R6YM praticamente la stessa solfa come nel precedente la scatola del PC è scarna fatta in cartone non c'è nemmeno la maniglia ma alla fine noi non ci interessa una volta aperta il figlio di garanzia troviamo un computer all'interno del cartone delle uova però comunque poco importa è dotato di un alimentatore di una adeguata misura né troppo grande né troppo piccolo il connettore della presa della corrente è italiano di conseguenza non abbiamo rotture le scatole per quanto riguarda adattatori da portarci dietro il PC è molto leggero pesa meno di 2 kg e non ha il masterizzatore di DVD purtroppo colore grigio antracite grigio scuro già fin da subito si nota una generosa griglia di areazione dove che ci permette di vedere LED pipe e il dissipatore a chiocciole come in tutti gli altri computer non si può cambiare la batteria e neanche meno fare modifiche senza perdere la garanzia detto ciò partiamo subito con una piccola pecca il connettore dell'alimentazione in quanto è in miniatura secondo me potevano farlo molto più grosso questo che poi è piegato anche a 90 gradi con un piccolo strappo sicuramente o si piega o si spezza però d'altronde spendete poco questo è un pc da 499 euro non si può pretendere vediamo le caratteristiche ai lati a scheda ve lo dicono che queste sono due porte usb 3.2 poi c'è una porta HDMI e una connessione di rete ethernet con il famoso pezzettino a molla che io odio dall'altra parte invece abbiamo un connettore per headset per cui microfono e cuffie assieme una porta usb tradizionale 2.0 e l'aggancio per la sicurezza con il cavetto una volta aperto si presenta in questo modo una cornice molto sottile ai lati e alcune caratteristiche come ad esempio il touchpad senza tasti fisici ma solo un unico pannello abbiamo l'etichetta della scheda video radio che è una vega schifosa potevano fare a meno i tasti sono low profile e le lettere sono stampate non sono appiccicate il pannello è un pannello a 1080p come avete visto c'è la webcam che registra a 1080p e il microfono è stereo il pannello dovrebbe essere uno schermo antiriflesso però come potete vedere quel riflesso ci marce la grande comunque la solita tipo nel classico pannello ha effetto buccia d'arancia cioè non è lucido si vede tranquillamente che non è lucido anche se qui l'immagine è fosca l'installazione è molto veloce in quarto d'ora fate tutto e per cui ora passiamo alle caratteristiche interne del pc comunque bando alle ciance adesso vediamo le caratteristiche interne allora processore AMD Ryzen 5 3500U che comunque è un buon processore in quanto riguarda qualità prezzo e prestazioni 8 GB di RAM DDR4 che dovrebbero essere due dedicati o condivisi con la scheda video un ottimo SSD NVMe da 512 GB la scheda video abbiamo già detto è una radio non vega 8 che è proprio per me l'ufficio è dotato di Wi-Fi 5 per cui ottimo bluetooth l'office 30 giorni neanche non lo metto in conto intanto va cestinato da notare sulle teste della grafica che c'è 26 frame per giocare a Fortnite non mi sembra il caso detto ciò adesso passiamo ai risultati di NovaBench il programma utilizzato per fare il test allora tanto per avere un'idea no il processore ha ricevuto un punteggio di 839 che vuol dire non vuol dire niente di per sé provate a immaginare che i primi processori Intel i7 la prima serie facevano un CPU score di 550 questo da 839 è un buon risultato anche in paragone ai più potenti processori in commercio facciamo un esempio una CPU Intel i9900K un Intel i9 di penultima generazione per cui la nona generazione ha un CPU score di 1500 pensate voi un processor che costa così poco e che ha un punteggio così alto cioè è una buona cosa per quanto riguarda anche la memoria è un buon risultato perché un RAM score di 218 si ho capito una DDR4 però comunque è un buon risultato ci sono tanti PC fisico DDR4 che non sono capaci di derivare a 218 stessa cosa vale anche per la velocità del disco 171 è un ottimissimo risultato per un portatile i dischi SSD NVMe sono una cosa fenomenale voi dovete pensare che un SSD classico non so un Samsung 860 EVO su un PC fisso ha un disc score di 90 cioè viaggia molto bene le NVMe d'altronde essendo un NVMe è anche normale che vada che vada così purtroppo non ho un termine paragone per quanto riguarda un NVMe un NVMe da PC fisso perché non ho nessun benchmark purtroppo avevo la possibilità di farlo ma mi sono dimenticato di farlo e veniamo all'ultimo l'ultimo risultato che è l'ultimo è l'unico risultato scrauso è quello della GPU voi dovete pensare che ha fatto 275 cioè pochissimo una scheda video una 1050 ti la scheda video di 5 anni fa messa sui portatili da 700 euro ha un GPU score di 660 cioè 660 qua siamo meno della metà una Radeon RX 580 una scheda video contemporanea per il gaming però che si limita ai 1080p ha un CPU score di 960 tanto per fare un esempio di conseguenza questo pc non è fatto per giocare se poi dopo installate fortnite roblox o queste cazzate qua o gta4 sicuramente ve le gira però non è un pc per gaming per favore non scrivetemi nella descrizione è un pc per gaming no non lo è ci potete giocare ma ci giocate male malissimo detto questo il pc ve lo consiglio se volete usarlo per farvi le azioni per andare a scuola per 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 l'intrattenimento nella descrizione avete il link per comprarlo spero che tra poco sia di nuovo disponibile perché per colpa del primi day è andato a ruba e con questo è tutto un saluto dal jaguaro ciao